Ultimo atto per la candidatura di Pesaro a Capitale della Cultura 2024. La città, che è una delle dieci finaliste all'ambito riconoscimento nazionale che vale pure un milione di euro, questo pomeriggio ha scoperto le carte alla Commissione Giudicante del Ministero della Cultura per l'audizione finale. Un esame con il 10% di possibilità di successo in cui Pesaro si è giocata le sue carte puntando su un'audizione incentrata sul titolo La Natura della Cultura e sull'etichetta di città-orchestra. Un'orchestra nell'accezione più collettiva del termine, dai quartieri protagonisti della gestazione della candidatura ai 52 comuni della provincia che, in caso di vittoria, sarebbero ciascuno capitale della cultura per una settimana. Dall'auditorium Pedrotti la candidatura di Pesaro si è tolta i veli in videoconferenza con l'esame del sindaco Matteo Ricci che, mostrando una foglia di albero di ginkgo biloba ridipinta in omaggio ai colori della bandiera ucraina, si è calato nel drammatico presente, guardando però avanti è una Pesaro che, per stessa espressione del sindaco, più che raccontarsi ama immaginarsi al futuro. È stata una candidatura presentata cavalcando temi forti, dalla tradizione rossiniana all'unicità della sonosfera. Candidatura sviscerata tra gli interventi di Lucrezia Ercoli, della direttrice d'orchestra Francesca Perrotta, dall'industriale Fabiana Scavolini fino al presidente della fondazione Rossini Gianni Letta. E poi i contributi del tifo a distanza, dal nuovo direttore delle ROF Juan Diego Flores a Placido Domingo fino alle città della musica Unesco, idealmente unite a Pesaro. Il sostegno di grandi uomini di cultura come Jacopo Fo, Giuliano Vangi, quello dei grandi uomini dello sport pesarese come Massimo Ambrosini e Valentino Rossi. Come ogni esame che si rispetti, dall'esposizione si è poi passati alle domande della commissione giudicante preseduta da Silvia Calandrelli. Organizzazione e contributi di un'eventuale vittoria sono stati al centro delle risposte dell'assessore alla cultura Daniele Vimini, del direttore della candidatura Alfonso Ritano e dell'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini che in mattinata aveva equamente benedetto la candidatura di Ascoli Piceno, ovvero l'altra portabandiera marchigiana nel novero delle dieci finaliste. Domani si concludono le audizioni e dentro la fine di marzo si conoscerà la vincitrice del titolo di Capitale della Cultura Italiana 2024.